ciao ragazzi io sono tornata nella mia cucina mai dire dieta sono super contenta perché sono qui con un carissimo amico federico green league federico benvenuti anche alle nostre amiche che ci stanno guardando i nostri amici e siamo tornati insieme sono molto contento sono contenta che ha accettato questa sfida mi piacciono le sfide tu lo sai allora innanzitutto amico federico e innanzitutto siamo colleghi perché siamo insieme al gm24 e ci vediamo dietro le quinte e non nego il fatto che lui mi fa mangiare sempre tra una puntata e l'altra perché sai io sono sempre sui attrezzi ginici lui è sempre in cucina ogni tanto sento questi aromi che arrivano dalla cucina di gm24 e come un cagnolino vado sempre la giudicazione qualche cosa però l'altra cosa che diciamo la verità tu hai anche ogni tanto sei molto creativo con le cose un po più ricche se mi diverto molto mi piace esplorare tutto quello che il mondo intorno a noi ci può dare mi piace un po vedere quali sono le possibilità della cucina oggi e soprattutto trovare un connubio nei diversi momenti della vita e poi l'altra cosa io ho detto poi fede lo sai quando vieni qua mi devi dare un aiuto e trovare tutto super light perché noi qui diciamo mai dire dieta sì 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 però al gusto colore esattamente croccantezza e e piattamento perché impiattamento sono molto attento perché la prima digestione inizia con gli occhi e un piatto ben messo in tavola è sicuramente già metà del gusto che sentiamo nel nostro palato esatto allora puoi spiegarci qual è la ricetta che ci ha portato per questa puntata certamente allora oggi prepareremo un'insalata di pollo con ananas pesca e del succo di limone avremo un contrasto di note acide e qualcosa di fresco come l'insalata quindi un piatto che si sposa bene all'interno di un regime dietetico alimentare controllato e secondo me anche un ottimo soluzione proprio per un bel pranzo esatto è vero un bel pranzo ok allora andiamo insieme proprio scoprire quali sono ingredienti di questa puntata ci serviranno 200 grammi di petto di pollo 50 grammi di ananas 50 grammi di pesca insalata tipo la tughino olio evo del tabasco limone sale e pepe cubi quanto basta federico allora dai prendiamo mezza pesca e cominciamo a affettarla esatto facciamo a fettine intanto andiamo a procedere con la cottura del pollo per la cottura del pollo non andiamo assolutamente ad usare grassi quindi mi raccomando una bella padella antiaderente e andiamo a mettere in cottura il pollo senza usare proprio nessun grasso quindi mi raccomando però se avete delle vecchie padelle o è il momento di cambiarle o magari un cucchiaino di olio ci potrà aiutare laddove magari il pollo potrà attaccarsi domanda qual è il segnale che io devo cambiare la padella allora quando magari la padella è leggermente scalfita all'interno può essere pericoloso per il nostro organismo perché tutte quelle schegge di rivestimento le andremo a mangiare insieme al cibo noi dovremmo mangiare una quintalata per avere problemi seri è chiaro però quello è un segnale di sostituzione delle pentole quindi diciamo che una volta ogni due anni tre anni se siete bravi con le vostre pentole se no anche prima ma sì o altrimenti per non farli scalfire che cosa devo utilizzare utensili in legno utensili in legno utensili in silicone e magari fra una padella e l'altra quando la mettiamo via usiamo del cartone dei fogli di stoffa li vendono anche nei supermercati che servono proprio a impilare le padelle senza rovinare allora mettiamo in cottura le pesche all'interno esattamente della nostra padellina ok ecco qua intanto io vado a mettere un po di succo di limone metti succo di limone per quale motivo per non andare a far brunire la frutta si ossida e quindi manteniamo il colore della frutta e gli diamo anche una nota di acida se volete possiamo anche usare un cucchiaio di aceto che va ben uguale a questo punto vado ad insaporire allora possiamo mettere del tabasco come gil vi ha detto nella ricetta oppure possiamo mettere del pepe verde che è molto buono oppure anche un po di peperoncino e naturalmente una piccola sbruffatina di sale cubi cubi quanto basta quanto basta qui la carne è quasi pronta il pollo lo sappiamo è una carne che viene definita sciocca perché è una carne che non ha molto sapore e quindi in questo caso sono tutti i condimenti delle salsine che andranno proprio a aiutare il piatto e a dare anche condimento al nostro pollo vedete che a me piace anche a me piace molto guarda però vedi io non ho messo proprio olio e guarda fantastico fantastico allora mentre tu stai preparando questo gustissimo insalata ragazzi andiamo a scoprire insieme quali sono diciamo le star di queste puntate da punto di vista nutritiva petto di pollo la carne bianca di pollo è magra contiene pochi grassi un ridotto contenuto in colesterolo e prive di carboidrati e ricchi di sostanze nutritive essenziali molte proteine nobili calorie vitamine e minerali come zinco rame e ferro potenzia la massa muscolare e rafforza le osse e le mantiene sane e anti stress il pollo contiene vitamina b5 triptofano due nutrienti in grado di ridurre naturalmente lo stress la vitamina b5 aiuta a sostenere le ghiandole sorrinali e in particolare il triptofano è un amminoacido che ha il grande potere di rilassarci e renderci felici assicurandoci anche una buona qualità del sonno tutto questo perché aumenta i livelli di serotonina nel cervello e migliora l'umore è ricco di magnesio il magnesio è un minerale essenziale per la nostra alimentazione che contribuisce a mantenerci in salute svolgendo oltre 300 reazioni biochimiche nel corpo un olio si definisce extravergine quando è ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici le sue analisi chimiche e fisiche soddisfano una lunga serie di parametri richiesti dal regolamento comunitari il fruttate dell'olio è quell'insieme di sensazioni olfattive gustative che ricorda il profumo ed il gusto dell'oliva se un olio presente invece all'assaggio di fetti e suoi parametri chimici non sono soddisfacente anche se si tratta di un olio prodotto in frantoio e ottenuto solo attraverso procedimenti meccanici non può essere catalogato come olio extravergine ma verrà catalogato come vergine o come lampante ragazzi siamo di nuovo in studio con sascia sorrentino ciao sascia come stai tutto bene grazie allora ci sono talmente cose che voglio tirare fuori della tua testa per i nostri amici perché è un geniaccio lo posso dire è uno delle migliori nutrizionisti che ho mai imbattuto in 30 anni di carriera lo devo dire proprio con tutto il cuore perché sascia veramente ha cambiato i corpi delle persone veramente più belle dell'instagram se lo vogliamo dire io voglio parlare del dosare l'energia durante l'arco della giornata perché i sportivi hanno bisogno io bisogno perché ho 52 anni 53 anni fra poco e devo dire per un po mi avete anche detto sui soggio che sono diventata troppo magra io mi sono trovata un po svuotata la parola giusta poi sascia mi ha dato un grandissimo aiuto aiutandomi a mangiare di più infatti molte persone che quando prendono mai dire dieta scherzano e dice non riesco a mangiare tutto quello che c'è nella guida alimentare abbiamo due guide alimentari uno mela è una pera per aiutare i nostri amici avere più energie durante l'arco della giornata ma che cosa succede ai nostri amici se saltano i spuntini beh che innesca un meccanismo di stress che poi ci per purtroppo ci porta ad avere dei comportamenti sbagliati soprattutto magari nel tardo pomeriggio sera dove ci viene questa fame nervosa tendiamo a mangiare più velocemente introdurre un sacco di calorie o spuntini inutili che poi alla fine il nostro corpo non riesce a smaltire quindi molto meglio per velocizzare il nostro metabolismo mantenere degli intervalli costanti per tenerlo attivo in cui appunto andiamo a fare degli spuntini andiamo a fare i nostri pasti allora ragazzi ricordate qua su mai dire dieta siamo con sascia solentino che grazie a questo libro siamo riusciti a creare per voi approvato da sascia 21 giorni per le ragazze che a forma di mela che mettono più grasso sull'abdome e a forma di pere che danno più diciamo adipe o centimetri sulla coscia sul girovita qua dentro ci sono le soluzioni di dire non sono quelle che devi mangiare ma quando perché questo è il segreto per avere più della vostra forma fisica ma adesso torniamo in studio e finiamo la nostra ricetta hai visto federico quanto sono 9 perché poi ci sono un sacco di ingredienti che uno non si neanche rende conto per esempio l'origano dà un effetto antiossedante importante aspetta io ti libero qua così vedono meglio quello che stai facendo e ragazzi ricordate che la tavola è la prima linea delle diciamo delle battaglie per l'antinvecchiamento assolutamente quindi dobbiamo trovare dei cibi buoni si può mangiare tranquillamente usando anche meno i condimenti meno prodotti confezionati ritorniamo un po' a scoprire i sapori anche quelli che sono i ricordi magari ecco molte volte in cucina a me ritornano in mente i ricordi di mia madre quando la vedevo davanti ai fornelli e poi vado un po' ad unire a sposare tutte quelle che sono invece le novità che la rete mi offre quindi un grande aiuto ci viene anche dagli chef che ci aiutano con le loro idee con le loro ricette noi invece trasportiamo tutto questo conoscere degli chef tutto questo sapere e lo andiamo ad usare invece in maniera un po più casalinga un po più homemade che ci aiuta a dare proprio quello stimolo per andare a mangiare un po più sano veramente con pochissima attenzione allora ti passo anche la tua compado tutto vai anche il liquido no il liquido no soltanto la frutta ok perfetto andiamo a mettere ok ancora un po di origano fresco potete mettere tutte le spezie che vi piacciono e andiamo quindi ad insaporire il pollo e andiamo a creare questo piccolo contrasto acido ritorniamo sul profumo ragazzi mi dispiace che il televisore non ha un nasometro che voi potete no perché voi non potete sentire l'aroma però questa aroma del della pesca leggermente sprigionata dalla cottura con il pollo e una cosa che mi succede sempre nei studio di gm 24 che sento sempre questi aromi pazzeschi che fa federico e adesso andiamo a impiattare qualcosa secondo me molto particolare andiamo ad impiattare in questo caso anziché usare l'aceto rimaniamo sempre con le note acide andiamo a mettere del succo di limone andiamo a mettere una un non nulla quindi un cubi di sale e un filo un giro di olio un paio di cucchiaini così ci diamo una regolata dopodiché andremo quindi al centro a impiattare il nostro pollo che abbiamo saltato che avrà questo connubio di dolcezza e di acidità dato proprio dalla frutta possiamo dire che è una sorta di no non è agrodolce non c'entra niente nella cucina asiatica però questo gioco tra dolce acidolo secondo me piace piace molto ho salato acidolo allora è perfetto nell'estate nei periodi caldi dove abbiamo tutta la frutta fresca a disposizione quindi è importante che noi andiamo a usare proprio la frutta di stagione cuciniamo seguendo la stagionalità delle delle verdure della frutta e poi ci mettiamo tanta fantasia gille come sempre facciamo allora ragazzi un altro poesia realizzato nella cucina di my view di dieta ti prego guardate i colori e io vi posso garantire l'odore meraviglioso e ricordate che quando mangiamo con gli occhi diventa sempre più facile a rimanere in riga a rimanere con le buone regole delle tavole perché viste io non dico mai quella parola con la d dietro alle mie spalle perché alla fine quando ci approcciamo la tavola con saggezza e anche con gusto diventa sempre più facile rimanere in linea federica grazie tantissimo grazie a te gille e grazie ai nostri amici che ci seguono da casa e ci vedremo presto qui su maggiore dieta